Differenziata a Chieti, a conclusione 2015 si tirano le somme del lavoro fatto e soprattutto dei risultati raggiunti. La cifra è del 65% e tra i riconoscimenti giunti all'amministrazione c'è anche la certificazione EMAS. Intanto siamo tra i primi dieci capologhi di provincia in Italia ad aver raggiunto una percentuale del 65%. E non per ultimo quest'anno è stata rinnovata al Comune di Chieti la certificazione ambientale EMAS che ricordo essere il top delle certificazioni ambientali per i prossimi tre anni. Con l'anno che verrà nel 2016 ci sarà la nuova gara di appalto. Tutte le migliorie grazie ai cinque anni di esperienza fatta dall'amministrazione con i propri cittadini verranno messe all'interno del nuovo capitolato per migliorare appunto il servizio e raggiungere una percentuale che ci consentirà di scalare ancora maggiormente la classifica, la gradatoria di lega ambiente cercando di raggiungere una percentuale che va tra il 65% e il 70%. Da un lato l'ambizione di ottenere sempre più diffusione sul territorio in modo da renderla ancora più capillare. Dall'altra l'obiettivo di non gravare sulle tasche dei cittadini. Grazie alla raccolta differenziata la parte del secco residuo che va conferito e smaltito in discarica è nettamente minore di quando è partita la raccolta differenziata del 2010. Siccome lo smaltimento è a carico del comune stesso e quindi dei cittadini della stessa città di Chieti va assolutamente a scendere e ci sarà un risparmio man mano che cresce la percentuale della raccolta differenziata stessa.